Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campagna di lasciare un like. Ragazzi, oggi vi spiego come risolvere questi errori riguardo a Batbull Caller, che significa proprio la schermata blu, che è veramente da problemi seri. Quindi, questa è la schermata blu con tutti i suoi problemi. Ogni volta che andiamo ad avviare qualcosa, qualche applicazione, oppure all'avvio di Windows, appare questa schermata blu con questo errore. Ovviamente io quando avviavo il gioco, mi si apriva questa schermata blu e poi si riavviava il sistema. Quindi, per risolvere questo problema, ho fatto così. Sono andato un attimo su gestione dispositivi, quindi andiamo un attimo su gestione dispositivi. Quindi, cercate di aggiornare qualsiasi driver che non funziona, oppure che ha problemi, oppure che ha vecchie versioni. Quindi, per esempio questo qua, io ho un driver ad aggiornare, quindi aggiorno a driver, cerco i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili, scelgo questo, faccio avanti e comincio a fare l'installazione dei driver. E questo era il primo passaggio. Ovviamente non solo questo, ho avuto problemi anche con altri driver, quindi ho avuto problemi con il controllo USB, ho avuto problemi con la scheda video, unità disco e monitor. E quindi ho aggiornato tutti questi driver. Chiudo qua e andiamo un attimo su i nostri dischi. Eccoli qua. Fate tasto destro sopra, mostra attrocuzioni, vabbè, proprietà, strumenti, controlla errori, controlla, analizza unità. Fate un'analisi su tutti e tre i dischi. Una volta fatto l'analisi sulla prima unità, andiamo a farla anche sull'altra unità, se avete più dischi. Quindi faccio su strumenti, controlla, analizza unità. Quindi se avete altri dischi, fatelo su tutti i dischi. Questo era il secondo passaggio. Ora andiamo sul terzo passaggio, che sarebbe l'ultimo. Andiamo a cercare cmd, esegui come amministratore. Facciamo sì, scriviamo sfc spazio slash scanno, facciamo invio. Avviva in corso dell'analisi del sistema. Farà una verifica dell'analisi del sistema. A me ci ha messo 5 minuti. E ha ripristinato tutti i file sul disco, i file cbs.logs, cbs.logs, che causa veramente moltissimi errori sullo spostamento dei file e altri tipi di problemi. Poi mi informerò ancora meglio. Però questi sono i tre passaggi per risolvere questo problema della schermata blu. Una volta fatto uscirà la protezione sullo sito Windows, a me ha dato tipo un ripristino dei file cbs.logs, visto che qua c'è scritto nessuna violazione di integrità trovata. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina ragazzi. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!